prima mattina ore 8 previsite il ceppolino il dottor ciampoli bell'occhio bell'occhio vieni arrivare bell'occhio se no ci sta il sole in faccia non si vede più niente dai cavalli quanti ne hai più stati stamani ora ne ho 6 e poi dopo una seconda mandata di 4 per un totale di 10 cavalli quelli ho fatto io il servizio com'è speriamo bene speriamo che passino tutte e 10 senti e queste corse queste corse diciamo bene ci si sta avvicinando sempre di più ai pali e tutto quindi ci si allena ci si allena sentimi il francese è migliorato abbiamo visto abbiamo visto a prendere fornace migliorato guarda beata gioventude ti hai lasciato tutto a te eh dai piano piano bisogna qualche cosa e molli ora 6 e dopo 4 sì bellissimo grazie niente a te cavalli